Non ci sta il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse prima di farle in ambito giudiziario. Sono indignato, dice Oliverio, da San Giovanni in Fiore, suo logo di residenza e sottolinea come il suo operato sia stato sempre caratterizzato dal forte impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Tra l'altro questa gara per un'opera pubblica, quella dell'impianto di Rorica, che è oggetto di questo procedimento giudiziario, è stata fatta prima che io arrivassi alla guida della Regione e non dalla Regione ma da un Comune. Anche successivamente i finanziamenti che sono stati accordati sono stati finalizzati al completamento dell'opera in una fase nella quale l'impresa era stata oggetto di provvedimenti interdittivi da parte della Procura e quindi con un'interlocuzione con un amministratore nominato dalla Procura per portare a compimento l'opera perché altrimenti l'opera sarebbe stata in balia delle onde. Io anzi ho apprezzato l'atteggiamento della Procura che proprio per portare a compimento l'opera in quel momento ha nominato un amministratore giudiziario che è interlocuito con gli uffici della Regione. Punto. Sono indignato. Sono indignato perché credo che questo modo di procedere è assurdo. Sono indignato e per questo ho dichiarato lo sciopero della fame. Perché il migliore alleato della mafia sono i polveroni. Sono coloro i quali si eriggono a paladini del contrasto alla criminalità. Siano collocati nella magistratura, nella politica, nella società, ad ogni livello. Perché non ci sono praticamente paladini da questo punto di vista. Un paladino c'è ed è Gesù Cristo che è al di sopra di tutti. Non ci sono divinità su questa terra. Bisogna appunto rispettare e bisogna approfondire. Bisogna valutare bene quando si assumono iniziative. E io mi permetto di dire che ho la coscienza a posto e ho soprattutto la consapevolezza di avere speso una vita per contrastare la criminalità e non accetto da chi che sia appunto che possa essere infangata la mia vita, il mio impegno politico dedicato al bene comune.